ciao ragazzi oggi volevo condividere con voi un sistema per dare un po di colore e tono ai nostri popper allora inizialmente anche prima li verniciavo con le bombolette vari colori è un lavoro un po lungo è abbastanza tra virgolette anche un po più costoso visto che bisogna usare varie bombolette vari colori eccetera eccetera e niente poi vedendo video semplicissimo di un estetista visto che mia moglie come tutte le donne si fa nelle unghie eccetera eccetera è venuto in mente di provarlo applicare anche sui popper praticamente è la nail art non sono altro che fogli con vari colori e tipologie di forme stampate che andremo poi applicare sui nostri popper qui ci sono vari tipi di camouflage questo qua ho voluto chiamare popper art proprio per questa particolarità qua di di disegno questo è il camouflage che andremo a fare anche stasera lo si può applicare su tutti i tipi di popper addirittura si sia un po di pazienza anche su questi che hanno la scanalatura qua sopra la testa hanno questa piccola scanalatura non voglio stargli dietro un attimino comunque anche nella svasatura anteriore si riesce a fare comunque abbiamo bisogno colla tutta roba che ho preso in internet anche la colla va ben distribuita andiamo ad applicare sul nostro popper bisogna avere un po di pazienza per distribuirla più bene possibile e lasciando un velo piuttosto sottile altrimenti ci impiegherà parecchio a fare la sua catalizzazione una catalizzazione particolare perché lascerà la superficie molto appiccicosa e questo ci permetterà poi di poter applicare il nostro tra virgolette tatuaggio chiamiamolo così che alla fine è la stessa è la stessa è lo stesso sistema che si usava per i tatuaggi da ragazzini quelle con l'acqua adesso abbiamo applicato la colla dobbiamo aspettare cinque minuti non mi sono già portato avanti preparando un altro prima ovviamente abbiamo il nostro popper con la colla prendiamo un foglio di quelli che vogliamo andare a far sì che resti la stampatura e lo andiamo applicare sul nostro popper parto da sotto per un semplice motivo perché se resta qualche difetto non resta sotto e si vede un attimino meno nessun problema anche sui difetti per un semplice motivo li possiamo correggere anche dopo lo facciamo aderire a tutto il nostro popper la difficoltà su questi qui tondi abbastanza semplice la difficoltà sta su quelli conici che hanno la svasatura è un po più lungo lavoro però con un po di pazienza avete visto i risultati sostengono adesso lo facciamo aderire bene con le dita lo schiacciamo bene che praticamente la colla la parte appiccicola che restata deve strappare via il colore dal fuori ripeto se c'è qualche piccolo difetto quello lo andremo a correggere vedrete che ci sono perché non sono fatti per quella roba qua sono fatti per le unghie per piccoli particolari pertanto una volta abbiamo applicato andiamo a togliere il nostro popper e belle che è finito come vedete è uscito discretamente bene ho visto solo un piccolo difetto qua sotto eccolo qua non so se si vede qua sotto è restato un piccolo punto bianco non dobbiamo far altro che andare a applicare nuovamente la carta strapparla e abbiamo recuperato anche il nostro difetto ok non avete visto questo è semplice e veloce come vi ho fatto vedere ci sono tantissimi tipologi ma poi all'interno si trova di tutto e infatti è... faccio quasi concorrenza a mia moglie e mie figlie su questo e niente poi per salvaguardare comunque il tatuaggio che abbiamo fatto non dobbiamo far altro che prendere sempre smalto da unghie trasparente e andremo a ricoprire il nostro popper consiglio darlo almeno un paio di volte o addirittura io ho fatto anche con lo spray plastificante che è poi quello che adopero per per ricoprire la vernice sui popper che faccio dipinti con le bombolette spray attenzione anche lo spray plastificante c'erano di vari tipi vi do un consiglio comprate quello all'acqua per un semplice motivo quelli chimici vanno a sciogliere vanno a sciogliere il materiale e andranno a rovinare tutto il nostro lavoro eccoci vogliamo chiuderci sempre bene ovviamente adesso le vostre mogli vedranno sparire i compagni apricomente